Qualche giorno fa è già partito un primo treno per Lourdes per il pellegrinaggio organizzato dall'Unitalsi e un altro ne partirà a fine settembre sempre una settimana, possibilità di andare in treno oppure in aereo. Dal 7 al 10 agosto invece ci richieremo a Loreto per il pellegrinaggio di tre giorni, quindi partiremo il venerdì mattina in Pullman e rientreremo il lunedì in tarda mattinata. Entro quando sarà possibile iscriversi? Come termine abbiamo dato il 20 luglio, poi terremo sicuramente aperta la segreteria fino agli ultimi giorni di luglio per i più ritardatari. Avete ripristinato anche il soggiorno in montagna? Sì, è un'iniziativa a cui teniamo molto e da diversi anni mancava, però grazie all'impegno del nostro socio Manuele Roberti quest'anno siamo riusciti a organizzarla di nuovo e lo svolgeremo a Campitello di Fassa, quindi in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, dal 6 al 13 settembre. Anche qui le adesioni non abbiamo stabilito un termine, quindi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Partiremo in Pullman, il costo è di 400 euro e è importante dire che avremo un Pullman a disposizione per tutta la durata del soggiorno, quindi per le escursioni che poi ci saranno giornalmente. L'Unità al SICI tiene anche a lanciare un appello per i volontari? Sì, davanti a una richiesta di malati vorremmo poter rispondere in maniera adeguata e quindi con volontari. Facciamo quindi un appello agli ipotetici e ai potenziali volontari in ascolto che non si blocchino di fronte al non ho mai fatto questo tipo di servizio. La prima volta l'abbiamo avuta tutte, abbiamo già programmato e scelto la data per un corso specifico prima della partenza di Loreto. Tutte quelle cose di base, poi dopo il resto lo si impara sul campo.